Chiara Frontini, siamo davanti al cantiere di via Cardinalla Fontaine, una storia quasi infinita sembrerebbe. Una storia quasi infinita come purtroppo tanti ruderi che giacciono all'interno della nostra città. L'ultima volta che abbiamo inventato la stampa l'abbiamo inventata davanti alla palestra di Santa Barbara, oggi lo facciamo qui perché vogliamo continuare, siamo ancora all'inizio dell'anno, ad augurare un buon anno ai viterbesi, un anno che ci ha portato un regalo inaspettato che è quello dell'archiviazione dell'esperienza amministrativa di Giovanni Arena e la possibilità di ridare ai cittadini viterbesi e degli ex comuni di nuovo la parola. La parola però noi vogliamo che sia data sui temi, ancora prima che sulle persone e noi quello che Viterbo 2020 vuole fare è mettere al centro il tema del lavoro, cioè il lavoro che in questa città drammaticamente manca, un lavoro che è necessario sviluppare attraverso tutte le leve possibili che in questo momento passano anche da due o tre mesi. Il PNRR che nel nostro abbiamo rilavorato l'acronimo e non è soltanto Piana Nazionale di Ritese e Resilienza ma è per non restituire risorse, quindi fare in modo che ci siano persone competenti all'interno dell'amministrazione comunale che faranno in modo di utilizzare tutte le risorse che sono esplicite e il Giubilato del 2025 che per la nostra vicinanza con Roma una volta tanto potrebbe portarci qualcosa di positivo e quindi far sì che anche la storia di Capi sia un punto di rinforzamento per questi grandi momenti storici che siamo in quanto riguardi i nostri territori. Quindi Chiara Frontini di nuovo in campo in questa campagna elettorale? Sicuramente Chiara Frontini e Viterbo 2020 saranno comunque in campo da protagonisti di questa campagna elettorale però come abbiamo voluto sottolineare qui il tema oggi non vuole essere quello di chi o di come cioè quindi delle alleanze o del gossip politico di chi si candida, di chi non si candida, in quale coalizione ma riportare al centro il cosa, cioè cosa vogliamo fare per questa città perché se continuiamo a far dibattere la città su chi si alleerà con chi quindi distogliamo il focus da quanto c'è di più importante cioè cosa faremo una volta tanto finalmente la politica farà per vedere.